Il segreto. Puntata mercoledì 20 settembre 2017. Il messaggio misterioso per Alfonso. Anticipazioni. Don Anselmo sa perché Camilla è tanto tormentata e la invita a sfogarsi. Carmelo presenta Adela ai suoi amici. Severo si mostra cortese, ma Adela nota qualcosa di sospetto nel suo sguardo. Il concerto di Natale, intanto, è un successo grazie all'intervento di Lodia. Sonia non riesce a scoprire la verità di Emilia. La donna continua a ripetere di essere l'unica colpevole della dipartita di Sol, anche davanti ad Alfonso. Quest'ultimo, intanto, tornato alla locanda, riceve un messaggio anonimo e molto sospetto. Prima parte. Camilla confesserà. Ippolito tiene il concerto di Natale che, grazie alla collaborazione di Lodia, si rivela un vero e proprio successo. Tutti i cittadini di Puente e Viejo, infatti, rimangono sbalorditi dalle insospettabili doti sia Canore, sia organizzative del Miranar. Nel frattempo Don Anselmo ritiene di sapere per quale motivo Camilla appare così turbata anziché essere felice per la sua gravidanza. Il bambino che la giovane aspetta potrebbe essere infatti di Nestor, e la probabilità getta la Val desalce nell'angoscia più profonda. Seconda parte. I sospetti di Adela. Carmelo ha presentato Adela, la vedova di Leonidas che ultimamente frequenta stabilmente, a Severo Santa Cruz e quest'ultimo si mostra nei confronti della donna molto gentile. Nonostante il comportamento cordiale del fratello di Saul, la vedova avverte qualcosa di strano nei suoi occhi, un velo nello sguardo che le sembra sospetto. L'espressione di Severo dipenderà dal difficile momento che sta traversando, o è causata proprio dalla figura di Adela, e gli sa forse chi è la donna. Ultima parte. Strani avvenimenti. Nel frattempo Alfonso è sempre più disperato e ha chiesto aiuto a Sonia, la compagna di Cella di Emilia, per cercare di scoprire qualcosa. In cambio le ha promesso di aiutarla a trovare un buon avvocato che le permetta di uscire dalla prigione. Purtroppo, però, Ella non riesce nel suo intento. Emilia continua ostinatamente a tenere nascosta la verità e a dichiararsi colpevole della dipartita di Saul. In seguito, Alfonso, in Locanda, trova uno stranissimo messaggio, qualcuno gli dà appuntamento in un luogo misterioso.